Grazie a voi Dottoressa, parleremo dell'importanza della terapia posturale perché quando si parla poi di postura a tutti quanti vengono in mente anche i dolori, la cervicale su tutti, i dolori al collo, quello che viene definito l'odioso mal di schiena, però cerrieremo piano piano. Noi partiamo adesso da un altro tipo di discorso così entriamo proprio dal punto di vista tecnico. Ecco dottoressa, per chi ci ascolta cos'è la posturale Messier? Allora la posturale Messier è una metodica che nasce appunto da François Messier che è un osteopata in Francia nel novecento circa ed è una metodica di riequilibrio posturale che ha come obiettivo quello di andare a recuperare la simmetria delle varie parti del corpo e quindi andando anche ad agire su alcune disfunzioni muscoloscheletriche che permetta di riallungare le catene muscolari che spesso sono soggette ad accorciamenti, a retrazioni dovute a sforzi fisici, stress, posture scorrette, sia diciamo di un lavoro ad alta intensità per breve durata ma anche lavori a bassa intensità per lunga durata. Chi ci sta ascoltando sicuramente si sarà ponendo una domanda. In quale tipologia di pazienti può essere applicata? Allora diciamo che questa metodica può essere applicata in tutti i pazienti che hanno problematiche di tipo ortopediche, quindi disfunzioni muscoloscheletriche come il mal di schiena, lombalgie, sciatalgie, cervicalgie. Chiaramente ci sono dei requisiti fondamentali da rispettare che sono ad esempio la capacità di poter stare sdraiati senza avere un cuscino dietro la testa oppure chiaramente in casi limite, ad esempio sindrome infiammatorie acute, in caso di schizofrenia in cui si fa chemioterapia o insomma questi pazienti un po' limite. Però tendenzialmente in tutti i pazienti che hanno delle problematiche molto comuni come appunto problematiche muscolari, scheletriche, diciamo dolori diffusi. Si parla anche spesso della tecnica counter strain. Cos'è? Allora la tecnica counter strain è una tecnica di terapia manuale ostopatica americana che permette di riprogrammare il sistema nervoso, ovvero tramite una metodica di iperaccorciamento passivo. Si porta il corpo in una posizione di maggiore comodità andando a contrastare lo stimolo continuo di accorciamento che spesso avviene nei muscoli. In questo modo si permette di migliorare la funzionalità del corpo e di riprogrammare lo stimolo doloroso che spesso può arrivare ai muscoli. Quali altri risultati si possono ottenere con questa tecnica? Questa tecnica permette di ottenere una riduzione dell'algia, quindi del dolore e dell'infiammazione e appunto di riprogrammare il sistema nervoso periferico affinché interrompa la comunicazione errata verso i muscoli e i nervi. Spesso si parla di terapie posturali di gruppo e individuali. Qual è la differenza fra queste due tecniche? La terapia posturale di gruppo è una serie di movimenti attivi che si effettuano in gruppo più o meno numeroso e permette di migliorare la mobilità ed è una serie di movimenti sia volti a rinforzare alcuni muscoli che ad allungarne altri. Chiaramente essendo di gruppo non è specifica per il paziente ed è molto generale, mentre nella terapia individuale si può studiare un percorso sul paziente, quindi in particolare per quelli che sono i suoi obiettivi specifici e le sue necessità e inoltre comprende anche alcune tecniche che il fisioterapista effettua sul paziente in maniera passiva e che quindi non si potrebbero effettuare in gruppo. Per concludere, si dice sempre che la medicina negli ultimi 50 anni, per non andare oltre, ha fatto passi da gigante. Ecco, si può applicare questo discorso anche alla fisioterapia che sta contribuendo sempre più a far vincere il dolore alle persone? Assolutamente, soprattutto negli ultimi anni si parla molto di evidence based, quindi di fisioterapia basata su quelli che sono gli studi, quindi attraverso degli articoli scientifici e quindi anche in fisioterapia si stanno facendo passi da gigante per quanto riguarda la risoluzione di molti problemi che sono estremamente comuni nella popolazione, come possono essere dolori acuti e cronici. E allora, noi vi abbiamo accompagnato anche questa volta qui in questo viaggio all'interno del centro medico La Fenice in via delle Magnoglie 21 a Bracciano e come avete ascoltato, insomma, la fisioterapia è un discorso estremamente importante, estremamente serio. Noi diciamo sempre affidarsi sempre a professionisti e mai ad apprendisti stregoni che poi possono fare danni nella vostra salute. Io vi ricordo che poi il centro medico La Fenice in via delle Magnoglie a Bracciano è anche laboratorio di analisi, medicina specialistica, centro di riabilitazione, osteopatia dell'adulto e pediatrica. Speriamo di essere stati come sempre interessanti. Grazie dottoressa. Grazie a voi.